Il Salone è un evento in cui Milano parla il mondo e il mondo parla Milano. È importantissimo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale e culturale perché il Salone dimostra che si può uscire dalla crisi e si può uscire dalla crisi con le cellenze italiane e in particolare questo padiglione, queste bellezze, questi gioielli che provengono dall'Italia e che dimostrano di essere capaci di parlare soprattutto all'estero ci fanno comprendere come le cellenze italiane possono farci uscire dalla crisi e soprattutto come solo l'unità d'intente tra le forze reali del paese e l'appoggio dell'istituzione o la consonanza con l'istituzione può far capire che tutti possiamo avere non solo un presente ma anche un futuro migliore.